È tempo di festeggiare! Applausi per la favolosa Kim! Su le mani! Più forte! Più forte! Dai, canta insieme a me! Puoi farcela! Uh, mi ha guardato! Ora è il momento di firmare gli autografi! Ecco cosa stavano aspettando i fan! Anch'io Kim! Non dimenticarti di me, Kim! Ma qui c'è anche una super fan molto speciale! È la nostra piccola Abby! E ha un piano astuto! Ottimo! La firma è fatta! Ora Abby ha una nuova mamma! Deve essere un errore! Non volevo! Mi dispiace, Kim! Ormai è fatta! Stai benissimo oggi, signorina Kim! Sarai la protagonista della cerimonia di premiazione! Lo so, Pinky! Ma cosa posso indossare? Oh sì, quel vestito andrà bene! Cosa ne pensi, Pinky? È perfetto, signorina Kim! Mamma, ti sono mancata! Oh, che cos'è? Posso provarlo? Oh, ha qualcosa nel... Oh, guarda, mamma! Abby, no! Perché non sei ancora pronta? Pinky, vai a vestirla! Subito, signorina Kim! Seguimi, Abby! Sbarazziamoci di quella brutta tutina! Ecco, ora sembri una vera principessa! Oh, è troppo largo! Lo odio! E adesso? Va meglio! Ce l'abbiamo fatta! È ora, signorina Kim! Oh, siamo in ritardo! Prendi l'elicottero, sbrigati! Dai, Abby, dobbiamo andare! Le auto sono troppo semplici per Kim! È abituata a spostarsi in volo! Oh, non ti viene da star male! Non avremmo dovuto mangiare quel gelato! Cosa c'è che non va, tesoro? Abby! Il mio vestito! I piani sono rovinati! Come possiamo risolvere questo problema? Dobbiamo rimetterci in sesto e pensare a qualcosa! Ci siamo quasi, signorina Kim! Eh, cos'è quella puzza? Oh no, ci sono tantissimi fan! Se ci vedono così, siamo finite! Oh, esatto! Tyler, ho bisogno del tuo aiuto! Penso che tu abbia bisogno di un cambio di guardaroba! Ciao a tutti! Sono qui per il mio premio! Sì, sì, non dimentico mai, miei fan! Oh, sembra che qualcuno sia stato ignorato oggi! Non è giusto! Il nuovo look di Kim è stato un vero successo! Siamo state brave, Abby! Sei stata proprio educata! E tu, Tyler, ti è piaciuta la festa? Come faccio a saperlo? Non c'ero! Oggi è stato davvero emozionante! È ora di riposare! Ehi, la mia coperta! Abby! Chi? Chi è? Aiuto! Mamma, siamo in grossi, guai! C'è un mostro nella mia stanza! Calmati, Abby! Conosciamo l'uomo giusto per questo! Non c'è mostro che Tyler non possa battere! Ma non c'è nessun mostro! Vedi, Abby? Niente mostri! È sotto il letto! Dai un'occhiata, Tyler! Ti prenderò! Non c'è nessuno lì! Solo uno! Siamo condannati! Ciao, ragazze! Dai, mamma, dobbiamo scappare! Ma non c'è scampo da questo incubo! Siamo in pericolo! Ma forse possiamo nasconderci! Per favore, per favore, fa che non ci veda! Eccovi! Posso avere il tuo autografo? Oh, ecco di cosa si tratta! Il mostro è solo un grande fan! Non facciamolo arrabbiare! Wow, che ne dici di un selfie? Sì, certo! I sogni del mostro stanno diventando realtà! Aghia finalmente il suo prezioso selfie! Oggi è un'occasione molto importante! C'è la prima del film di Kim! Finalmente! Guarda, Tyler! Oh, ha un aspetto fantastico! Quella è la mia mamma! Non è fantastica? E stai zitta! Non gridare! Ti piace, Kim? Lei è la mia mamma! Mia adottata! Santo cielo, ragazza! Facci guardare il film! Shhh, Abby! Silenzio! Ah, sei un guastafeste! Uh, le scene romantiche sono così noiose! Forse i nostri sogni saranno più eccitanti! Svegliati, Abby! Ti stai perdendo il film! Ah, sì, sì, sto guardando! Ehi, che ne dici di uno spuntino? Faccia scoppiare il pacchetto! Preparati! Assolutamente no, Abby! Abby, non farlo! Non fare il fifone! Woohoo! Abbiamo fatto colpo! Siamo terribilmente dispiaciuti, signorine! Abby, dove sono le tue buone maniere? Buone maniere? Cosa sono? Non ne ho mai sentito parlare! Basta, Abby! Lo dirò a tua madre! Hai rovinato tutto! Me ne vado! Abby, sei in punizione! Mamma! Non volevo! Uh, è così eccitante! Oggi è il primissimo talent show di Abby! Credo in te, tesoro! Puoi farcela! Devi vincere, Skyler! Non distrarmi, mamma! Bene! Quindi questa è la concorrenza! Non ci batteranno mai! E ora, Abby! Attenta, signora! Sei attenta tu! Wow, Abby è davvero brava! Un talento da primo posto! Cos'è? Un flauto per bambini? Ehi, ridammelo! Assolutamente no! Prossima concorrente! Il primo posto è mio, capito? Non piangere, Abby! La mamma risolverà tutto! Sai suonare la batteria? Nel frattempo, ecco la grande esibizione di Skyler! Eccola con la sua armonica! Oh, non va affatto bene! Fatela scendere dal palco! Oh, il suo talento è troppo per loro! Cosa? Come osate! Ce ne andiamo, Skyler! Queste persone non apprezzano l'arte! Abby è una sorpresa in serbo per i giudici! I tamburi sono molto più eccitanti dei flauti, vero? Che creatività! Che stile! Sei stata fantastica, Abby! Ti sei davvero guadagnata al primo posto! Quella è mia figlia! Sono così felice, mamma! Festeggeremo alla grande! E tu, non intralciarci di nuovo! Mamma, devi assolutamente assaggiarlo! Non ne sono sicura, tesoro! Ha molte calorie! Dai, mamma, è delizioso! Oh, hai ragione! Dovrei mangiare anch'io! Dai un'occhiata al mio nuovo look! Oh no, i paparazzi! Non possono vedermi così! Spostati, Abby! Dobbiamo nasconderci! Se ne sono andati? Ti faccio un sorriso, Kim! Il fast food non è un po' di bassa classe per te? Allontanate quelle macchine fotografiche! Dai, Abby, andiamocene! I paparazzi sono il peggior incubo di ogni celebrità! Ma Kim ha un piano per affrontarli! Wow, voglio farlo anch'io! Ehi, è divertente! Dai, mamma, unisciti a noi! Hmm, sarà un travestimento perfetto! Non c'è tempo per spiegare! Vendimi i tuoi vestiti! Certo, ragazza d'oro! Prima i contanti! Ora possiamo finalmente rilassarci! Niente più problemi con i paparazzi! Sì, troviamo un altro bar, tesoro! Non posso gestire altri scatti a sorpresa oggi! Non c'è mai un giorno di noia nella vita di una celebrità! Oggi Kim ha organizzato un'asta! Chiunque può acquistare gli effetti personali della superstar! Voglio quel dipinto! Venduto! Goditi il tuo acquisto! Signorina Kim, solo un paio di domande! Stai indietro! Va tutto bene, Tyler! Vuole solo farmi un'intervista! Kim è pronta a rispondere a tutte le domande! I fan saranno entusiasti! Ma mentre lei è impegnata, divertiamoci! Facciamo una vendita di beneficenza! Hmm, Abby non dovresti... Non fare il guastafeste, Tyler! Guarda, la gente lo adora! Ricorderanno quest'asta per sempre! Chi potrebbe mai dimenticare una cosa del genere? Guarda che tesoro! Oh, questo è il primo premio di mia mamma! Puoi averlo? Oh sì, puoi avere anche la guardia! Tyler è un bravo ragazzo! Ehi, gente! Cosa diavolo sta succedendo qui? Oh, Abby! Un altro scherzo! Oh, andiamo mamma! Loro ti amano! Quest'asta è stata un enorme successo! Alla scuola di Abby è la giornata della mamma! Le mamme di tutti racconteranno tante storie emozionanti! Ma la nostra Abby è tutta sola! Avete sentito parlare di Kim, vero? È una star! Ed è anche la mia mamma! Sì, giusto come no! Penso che tu sia un'orfana! M'esci di qui, perdente! Ah sì? L'avete voluta voi! Lo dirò a mia madre! Ve lo mostrerò! Ahimè! Kim è davvero molto impegnata in questo momento! Ma le verrà in mente qualcosa, questo è certo! Mia mamma sta arrivando! Aspettate! C'è un nuovo volto in classe! Sembra che Kim ci abbia mandato la sua controfigura! La somiglianza è perfetta! Ehi, scusate se vi ho fatto aspettare! Oh, rimarrai a lungo? Quanto basta per cantare per voi, cari? Questo piano era condannato fin dall'inizio! Tyler rovinerà tutto! Tesoro, penso che avresti dovuto andare alla scuola di musica! Ah, cosa intendi? Tu dalle un A più! Non te lo chiederò un'altra volta! Sì, 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 certo! Qui! Ecco Abby! Ah, Tyler! Mi prenderanno in giro a vita! Ah, quanto ancora dobbiamo aspettare! Il compleanno di Abby non arriva mai abbastanza in fretta! Altri tre giorni e ci sarà una grande festa! Ancora meglio! Ci sarà il regalo che ha sempre voluto! La mamma deve sapere cosa vuole dopo tutti quei suggerimenti! È persino andata da lei alle terme! Wow, terribile! Oh, e quella volta nel parco? Lei deve aver capito il suggerimento! E ora il momento della verità! Oh mamma, ho aspettato così a lungo! Il mio cucciolo è peloso come lo immaginavo! Ma mamma, è solo un... Cosa c'è che non va Abby? È solo un osso, mamma! Ora basta! Non voglio vederti mai più! Oh, lo vedremo, Abby! Come ha potuto farlo? Non è giusto! Ehi, da dove vieni, piccoletto? Sei così carino! Oh, hai un biglietto per me? Oh, ritiro tutto! La mia mamma è la migliore! Hai trovato il tuo regalo, eh? Buon compleanno! Non è il più carino del mondo!